bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie di fortnite le trovate in questa manciata di minuti oggi video per iniziare la settimana davvero incredibile ieri nelle prime ore della serata hanno praticamente liccato direttamente quelli di fortnite la nuova sessione della coppa marvel con l'arrivo di un nuovo eroe già tanto tutti sapete chi è ma vi faccio vedere delle cose incredibili parleremo anche nel video di oggi di alcuni sound che sono stati aggiunti della coppa di l'aklan e insomma tanta tanta roba prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che non poteva che essere il post direttamente dalla pagina twitter ufficiale di fortnite è lampante un teschio del fuoco e un'immagine che è tutto un dire stiamo parlando dell'ufficializzazione dell'arrivo della skin di ghost rider il motociclista con la testa in fiamme con il teschio quindi che va a fuoco che abbiamo visto nel film interpretato da nicolas cage se proprio volessimo fare i fanatici di cinema ecco qua un'immagine molto più grande ma ancora non tantissimo chiara perché in realtà dovremmo fare dei lavori di schiaritura ad esempio come questo la skin di ghost rider ragazzi ha veramente uno stile molto molto heavy metal mi piace tantissimo non sappiamo se sia con degli stili oppure no quindi se abbia la variante magari che brilla oppure rimane normale non sappiamo neanche se componga un set quindi se arriverà con tanto di piccone deltaplano e cose varie ma abbiamo questa certezza tra l'altro vi ricordo che queste sono le copertine degli ultimi numeri dei fumetti di marvel che appunto ritraggono il crossover tra marvel e fortnite e come vedete ragazzi mancano ancora delle skin all'appello ma già avevamo visto che là in basso c'è proprio ghost rider manca all'appello venom che sappiamo essere confermato vi faccio un lieve briefing venom è stato confermato qualche giorno fa ve ne ho parlato in un video appunto si dice addirittura che la skin di venom sia più grande di quella di brutus quindi deve essere un qualcosa di veramente mastodontico e all'appello manca anche capitan marvel quindi l'ultimo eroe che dovrebbe appunto completare la cerchia forse in questa season della collaborazione con marvel tutti stiamo un pochettino sperando che non arrivi e non continui la collaborazione nella season 5 ma se così fosse perlomeno che non ci siano gli eroi che abbiamo già visto non lo so perché ma ho il presentimento che continuerà non lo so il perché ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla di nuovo del torneo di laclan ragazzi ne abbiamo già parlato qualche video fa forse ieri addirittura non ricordo il torneo si chiama piccone frenetico che sarà il 7 novembre non so perché ho letto però da qualche parte l'8 novembre comunque c'è la notizia direttamente nella lobby del gioco non dovreste assolutamente fare fatica ci sono delle informazioni che arrivano su questo torneo la prima è il sistema di punteggio come vedete molto particolare perché è una vittoria reale vi garantisce ben 70 punti secondo posto ne prendete 56 48 42 39 fino ad ascendere fino al diciassettesimo posto dove recupererete solamente tre punti non so se nello scoring system ci sia anche il discorso del punto per kill o comunque anche quello della sopravvivenza ma secondo questa immagine sembrerebbe proprio di no e un'altra informazione che arriva per la coppa di laclan è anche la i placement points come vedete ragazzi per quanto riguarda l'europa dal primo al mille e centesimo in america 700 nord america est nord america ovest 300 brasile dal primo al 300 così via fino al middle east dal primo al centocinquantesimo quindi mi raccomando la coppa dovrebbe essere se non ricordo male aperta a tutti buona fortuna e dateci dentro perché vi ricordo che piazzandovi in alte posizioni potrete ottenere lo il set di laclan in anteprima rispetto all'uscita nello shop andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché già 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 si fa un bel salto indietro di due anni siamo tornati in season 5 ragazzi dove in season 5 ci fu tutti lo sapete kevin the cube quello che adesso è all'ingresso di foschi fumaioli perché vi faccio vedere kevin perché ieri pomeriggio sono state trovate anzi è stato trovato un audio inserito che fa un pochettino tornare indietro nei ricordi innanzitutto ve lo voglio far sentire l'audio è questo ragazzi come avete capito è lo stesso identico suono che fu usato per l'evento il mini evento che ci fu in season 5 si parla sempre tanto di kevin anche direttamente donald ne parla indirettamente o direttamente durante le interviste o nei post su twitter chissà che centri qualcosa con il proseguio della storyline che secondo me in questi giorni in queste settimane addirittura in questi mesi si è un pochettino perso insomma staremo a vedere e andiamo avanti a parlare di un altro argomento un piccolo briefing anche qua ragazzi si sono disputate le finali in trio e con grande stupore chi vuoi che abbia vinto complimenti a tyson mongral e mitro ragazzi che si impongono con ben 14 lunghezze dai secondi che sono andris dacontop e giannis 194 per loro 180 per l'altro trio da notare anche all'ottava posizione mister savage lx tsh che non conosco e benji fish con 132 punti molto rapidamente ragazzi visto che il tempo stringe un altro aggiornamento per quanto riguarda la skin madcap che sicuramente avrà una come dire una importanza abbastanza rilevante per quello che riguarda il futuro di fortnite voglio ricordarvi che insieme alla skin madcap dovrebbe arrivare in game non sappiamo quando anche il funghetto che risponde ai balletti alle animazioni del nostro personaggio davvero interessante anche questa cosa abbiamo già visto che ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la skin madcap fatti appunto qualche giorno fa staremo a vedere cercheremo di capirci di più insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news le ho terminate vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao